3 nuovi autobus completamente elettrici già in servizio per sostituire parte della vecchia flotta del trasporto pubblico locale e guardare con grande attenzione al tema ambiente. Accade a Trani dove questa mattina sono stati presentati e subito saranno attivi i 3 nuovi mezzi per un valore complessivo di circa 1.700.000 euro grazie ad un bando regionale vinto dal titolo Smart Go City. Le nostre città hanno bisogno di mezzi che siano dal punto di vista ambientale sostenibili, abbiamo provato a cogliere tutte le occasioni che la regione Puglia ci ha offerto, devo dire che siamo stati bravi, li abbiamo colte tutte, siamo riusciti praticamente a prendere in così poco tempo ben 7 mezzi, 4 ibridi, oggi 3 completamente elettrici. Questo è solo il primo passo verso una completa rivisitazione della flotta a Trani come ha spiegato il sindaco Amedeo Bottaro in vista dell'arrivo di altri 6 bus a metano ed una riformulazione di corse e zone pedonali. Devo dire che questo è soltanto il secondo passo di un percorso lungo che ci porterà assolutamente a rinnovare l'intero parco mezzi del comune che sta dando in dotazione ad Amedeo perché vogliamo implementare il numero delle corse, il numero dei servizi, vogliamo trasformare questa città in una città sempre più pedonalizzata, per farlo dobbiamo aumentare il trasporto pubblico. I bus sono stati ceduti in usufrutto all'Amedeo che si occupa del trasporto pubblico locale tranese. Abbiamo già caricato gli autobus elettrici quindi sono pronti per entrare subito in funzione, c'è già l'attivazione del servizio di bigliettazione con Q-Code e con la carta di credito quindi qualsiasi persona può tranquillamente salire sull'autobus, anzi consiglio vivamente di prendere il servizio pubblico. I mezzi elettrici della grandezza di 10 metri con una capienza di 76 posti sono i primi consegnati in Italia dalla società MAN Track & Bus Italia, dispongono di una sofisticata dotazione elettronica e informatica ed all'interno è presente anche un sistema di videosorveglianza. Siamo molto orgogliosi di essere qui oggi, PERMAN rappresenta la consiglia dei primi veicoli elettrici in Italia, la prima di una lunga serie, sono dei veicoli zero emissioni e in questo caso si tratta anche di un veicolo premiato, ha preso il premio di prodotto sostenibile del 2024. Quindi siamo molto contenti di consegnare un veicolo zero emissioni eppure premiato. I primi bus elettrici consegnati a Trani rientrano in una strategia ben più ampia della regione Puglia che punta a rivedere praticamente in tutte le città le ormai antiche flotte di bus in circolazione per il trasporto pubblico locale. La decarbonizzazione è una strategia perseguita su diversi fronti, il Dipartimento Mobilità con la sua sezione Mobilità Sostenibile ha celebrato ben tre bandi per circa 52 milioni di euro di risorse, Trani è risultata giudicataria di questo ultimo bando per circa 2 milioni, tre mezzi, Trani è la prima città a dotarsi nell'ambito di questa strategia di mezzi totalmente elettrici.